fratelli e razzurri amici di facebook e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon martedì è la vigilia del giorno del football però è giornata di champions giornata di champions insomma napoli milan napoli milan adesso dirò due cose poi vigilia della nostra partita inter benfica e ho sentito le parole sia del mister ma soprattutto del mio idolo lo sapete che lo sia ma poi stefano fa lo stesso ruolo tra l'altro terzino destro perché per me darmian è più terzino destro e quindi matteone forforone io non ho più aggettivi per questo ragazzo ma ci arriviamo allora ragazzi intanto vedete che rispetto a ieri aumentano cioè diventano di più c'è un lavoro è proprio un inizio questo qui è un inizio per poi arrivare a quindi però piano piano stanno aumentando se guardate rispetto a ieri già è cambiata anche un po la grafica chissà che ci sia come come ha detto anche il nostro matteone forforone un'inversione di rotta è un mese della madonna un mese devi fare della madonna un mese e mezzo otto partite più speriamo vediamo cosa succede detto questo ragazzi detto questo napoli milan napoli milan voi sapete come la penso io spero che passa che che passa il napoli perché insomma un altro euro derby faccio fare un po fatica ma detto questo nonostante ciò il milan comunque ha un vantaggio ho sentito una cosa che mi ha fatto un po schifo mi ha fatto perché per quanto possa stare sui coglioni e qua c'è uno che veramente non lo sopporta cioè anche durante le live reaction durante i derby ma è proprio lui cioè ci sono alcuni miei amici milanisti che che non lo sopportano teo ornandez perché lo sanno che è un provocatore perché simula spesso fa le sceneggiate provoca siamo d'accordo lo dico da quando è arrivato al milan poi è bravo bravissimo quando quando in vena perché ho visto le partite dove non toccava palla ma quando in vena è fortissimo ma ha un carattere che lo frega materazzi aveva un carattere che lo fregava perché rompeva il cazzo perché instigava e siamo d'accordo io lo dico di tutti anche di quelli che erano all'inter ci mancherebbe però questo è un cagacazzi ma il conto è gli fai il coro a lui ok ci può stare ma un conto sono le minacce le cose sui figli ma dove cazzo siamo arrivati ma ragazzi ma che schifo cioè ma sti livelli prima di una partita è successo anche a noi più di una volta più di un derby però non siamo arrivati a sti livelli quindi già già non è non è stata una cosa proprio per niente bella più vabbè all'arrivo ci sono stati i cori e tutto per teo hernandez e tutto stanotte gli hanno fatto i fuochi d'artificio quindi che poi ognuno fa quel cazzo che vuole per l'amor di dio ce l'hanno fatto anche a noi cioè quelli di barcelona ci avevano fatto le pentole i fuochi non è quello più che altro la cioè ci sta tutto tranne tranne le cose sui bambini tranne le minacce di morte cioè a sti livelli assolutamente no poi i bambini ma dove cazzo siamo arrivati comunque quindi per quanto mi riguarda per quanto mi sta sul cazzo gli sono vicino a teo hernandez sotto questo punto di vista perché non esiste detto questo detto questo bisogna vedere il campo perché è vero che il napoli ritrova un gole ad oro che quando io mi ricordo ragazzi che l'anno 88 89 noi abbiamo vinto lo scudetto dei record col trap e aldo serena non è che fece io vorrei ricordare che con 29 gol di icardi siamo arrivati in champions league ma non è per sminuire icardi e per farvi capire che aldo serena fu capo cannoniere addirittura nell'inter dei record con 22 gol e in quell'anno lì aldo serena anche se la prendeva così che gli veniva un tic no faceva gol faceva e così perché quando l'anno cioè uno è forte perché così meno è forte però quando l'anno di grazia te la butta dentro tu guarda l'altro l'altro giorno è entrato in un quarto d'ora ha preso una traversa che sta ancora traballando i nostri continuano ma neanche la traversa prendiamo noi questo entra in un quarto d'ora boom la sfonda la traversa quindi se da un lato ovviamente recupera il suo bomber e quindi il bomber proprio del campionato è dall'altra parte perde a centrocampo anguissa però visto che insomma sostituto ce l'ha don belè che non è fatto male e in difesa c'è una nostra conoscenza one jesus al posto di kim che è formidabile veramente come cazzo l'ha trovato sto kim il napoli pazzesco quindi acquista da una parte un punto di domanda in mezzo al campo perché poi sai poi la partita la vince a centrocampo la vinci quindi l'abbiamo visto noi col benfica perché gli abbiamo asfaltati in mezzo al campo e speriamo che domani sia così perché devi fare quel tipo di gara si riparte da zero a zero non c'è scritto niente l'ha detto anche il minister giustamente però tornando a napoli milan insomma la differenza poi fondamentale la potrà fare il pubblico sì quello sia lo stadio perché poi se andiamo a vedere in in campionato insomma è vero che il milan gli ha fatto il culo così sul campo io non penso che anche qualora ci fosse stato comunque il tifo cioè la partita comunque andate in quel modo magari erano di meno non lo so però il milan li ha asfaltati al ritorno all'andata di champions assolutamente il napoli strameritava il pareggio addirittura in 10 contro 11 ha creato un altro paio di occasioni e stasera ci sarà tutto lo stadio sì san paolo tutto lo stadio diego armando maradona insomma che ti feraci sarà forse una coreografia non lo so quindi quello può essere un valore aggiunto su una su una rimonta vedremo vedremo ripeto da un lato sarebbe un po più nel senso un po meno sbattimento è un probabile se noi passassimo attenzione perché noi dobbiamo ancora passare quindi noi domani sapremo già chi dovremmo incontrare se passiamo col benfica dall'altra parte ci sarebbe comunque un po voglia di rivalsa per quella soprattutto il derby quello con due pareggi la famosa semifinale del 2002 2003 ecco visto è considerato che insomma quest'anno quest'anno comunque è vindicato con la supercoppa che avevi perso nel 2011 diciamo che insomma dove capiti capiti però insomma meno ansia un probabile derby italiano e non milanese in champions se noi passiamo attenzione quindi qua arriviamo a noi arriviamo alle parole di matteone forforone che veramente è a una a un'umiltà quel ragazzo io la prima volta quando arrivato all'inter non è che l'ho sentito subito parlare no ma se vi ricordate feci un video su di lui la prima volta che ho sentito parlare perché cioè già in campo veramente no non è brutto anche dire un soldatino no perché è brutto soldatino però cioè dove lo metti lo metti fa il suo e se è anche di più cioè dove lo metti lo metti fai il suo e anche di più e quindi gli hanno chiesto qual è il suo segreto perché hanno detto adesso hai 33 anni il segreto qual è quello di di crederci ogni giorno di allenarsi sempre di più di dare il massimo durante la settimana e poi il modo in cui si espone nel senso quel disgraziato di pasquale guarro è gli ha fatto lui la domanda sui possibili premi e giustamente matteone ha detto che a sti livelli insomma non servono premi per per agguantare diciamo questo quarto posto no e quindi insomma poi hanno chiesto al mister del benfica ovviamente ha detto quello quello che tutti sappiamo che dobbiamo fare comunque la la gara la gara la prestazione perché questi vengono qua col dente avvelenato questi corrono questi creano questi creano anche loro cioè con noi non hanno creato siamo d'accordo ma di solito creano quindi ci vuole ci vuole la migliore inter l'inter di coppa ormai ci viene da dire questo ci vuole l'inter di coppa e domani è la coppa e quindi ci vuole l'inter di coppa giustamente effettivamente come dice il presidente insomma guarda qua guarda guarda qua guarda 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 qua e questo poi lo sistemiamo poi vi spiego come perché queste sono tutte plastificate ormai perché sennò si rovinano e quindi c'è l'effetto luce effetto capa di che insomma per quello lo togliamo e quindi inter benfica ragazzi domani chi sarà al meazza sicuramente assisterà e insomma bello tridimensionalmente lo vedrà a noi speriamo che ci facciano vedere qualcosa su domani noi siamo prime stasera il milan e mediaset quindi speriamo che primi domani faccia vedere lo spettacolo che ha organizzato la curva nord probabile formazione gliel'hanno chiesto al mister se lukaku e cialanoglu potrebbero giocare partire quantomeno ciala ciala lui ha detto che ha delle idee però insomma c'è c'è la rifinitura aspetta di vedere vediamo un po quello quella che sarà la la formazione ci vuole ci vorrà ancora un super onana perché se siamo a questo punto è grazie a lui perché col porto ti ha salvato e col benfica pure soprattutto l'ultima parata quella che ti ha chiuso la partita sul 2 a 0 quindi la difesa accorta ci vuole ci vuole la migliore inter per per arrivare a questo sogno perché già già la semifinale è un sogno ok per me la coppa è un sogno cioè in generale questa coppa è un sogno l'ho fatto ieri il video quindi non è solo la finale il sogno già una semifinale insomma non è che che ci si arriva sempre però capite anche che è talmente una merda in campionato perché è così perché uno mi ha detto ma è scritto ma è un caso che le romane siano sopra sarà anche un caso ma io a rivedere questa classifica pensare che mancano otto giornate a vedere quell'andazzo lì mi sembra di essere tornati in campionato nel periodo pre spalletti poi tanti ho sentito che dov'è che l'ho letto anche da qualche parte oggi o ieri io l'ho vissuta quell'inter lì me la sono vissuta sia allo stadio durante il campionato non tutte le partite però quell'anno ed era il 93 94 ma quell'inter ha rischiato di andare in serie b cioè lì è diverso per due punti ci siamo salvati però ero in finale con il salisburgo alla semifinale alla finale d'andata ero in pullman che tornavo da parigi perché non avevamo andati con la scuola a parigi e il ritorno ero allo stadio lo sapete terzanello verde qui non si parla a cazzo di un inter che stanno in serie b però per il valore della squadra quello che ho detto ieri la metà delle figure di merda e noi non saremmo così anzi però c'è quella roba lì che insomma è lì da vedere è lì da vedere quindi speriamo speriamo che domani faccia l'inter di coppa e che dia un ulteriore input perché poi ci bisogna dare c'è la trasferta di empoli cioè che ci ha già battuto in casa l'empoli quindi dovremmo vendicare quella buono lo so è paradossale veramente è difficile commentare quest'inter voi capite non solo me anche tutti gli altri youtuber è difficile quest'anno commentarla è veramente una cosa troppo che si fa fatica quindi forza ragazzi il sangue agli occhi non bisogna mollare un centimetro di campo perché se questi li fa giocare sono cazzi da cagare siamo stati bravi a non farli giocare la cosa che poi magari ho detto poco o forse neanche ho detto la cosa che hanno fatto passare è che Benfica era una squadra di merda era com'è prima dell'inter chiaro non è real madrid chiaro non è il manchester city ma aveva tostato il pari san germain aveva aveva preso a schiaffi la juve cioè non è proprio una squadretta quindi se il benfica è sembrato una squadretta molti meriti grandi meriti sono nostri sono quelli che non vengono mai riconosciuti perché comunque è vero che poi noi ma noi interisti possiamo farlo noi possiamo decidere se lamentarci oppure no ma quando vedo poi dei titoli di giornali e prime pagine di giornali dove sembra che è solo noi è una merda quando mi sembra che in realtà comunque un cazzo di trofeo l'abbiamo già portato a casa perché questo la gente se lo dimentica perché io è vero che critico se c'è da criticare tutto ma difendo quando c'è da difendere comunque mi sembra di ricordare che negli ultimi tre anni quattro trofei l'Inter li ha portati a casa negli ultimi tre anni quindi si parla sempre poi siamo quasi quasi è un piccolo passettino è stato fatto in una probabile semifinale di Champions abbiamo una semifinale di ritorno di Coppa Italia ci stiamo giocando un quarto posto che è me il problema qual è stato che due volte tu potevi allungare sul gruppetto andare a più 4 o più 5 non l'hai fatto quello fa girare i coglioni non è che serviva molto poi bastavano due o tre vittorie nei momenti giusti e non eri in questa situazione ok è quello che fa incazzare è un po' la cocciutaggine del mister e chiudo perché poi ormai i video diventano i 15-20 minuti perché poi mi mi intripo a parlare il ragionamento sugli attaccanti capitemi perché poi la gente eh ma che gol Lukaku non segna da Lautaro ho capito ho capito ma storicamente dei quattro chi è che segna di più quei due uno le occasioni gli arrivano ma non la sta buttando dentro su azione siamo d'accordo ma le occasioni ce le ha e prima o poi la butterà sta minchia di palla dentro l'altro è in un cazzo di suo periodo perché abbiamo visto che poi quando inizia segna ogni partita ogni partita per 5, 6, 7 partite lo fa cazzo significa puntare sul Tuku dal primo minuto il Tuku sicuramente ci potrà dare una mano perché lo stiamo vedendo un pochino meglio ma non potrà mai essere quello che ti farà la differenza come se te la fa l'autaro sei in forma e mentalmente sta bene tutto quindi per quello dico cazzo lui perché però perché è cocciuto perché quella è una sua scommessa no e quando lui perché lui l'ha detto mi vorrò togliere dei sassolini quella è una sua scommessa e lui ancora vuole scommettere ma lì devi fare come fece Murigno anche Murigno ci fece prendere un cazzo di giocatore Trivela Quaresma 35 zucche 30 35 ha avuto le palle di metterlo in panchina e di cambiare modulo e abbiamo vinto invece no lui è cocciuto è quello che mi fa incazzare Correa partita in corso dai ma che cazzo ti può fare Correa che nella sua storia massimo 7-8 gol all'anno allora devo trovare per le ultime 8 giornate il miglior Lautaro e il miglior Lukaku quello che mi fa arrabbiare capite perché forse non mi sono spiegato lo so anch'io che non stanno segnando ma dobbiamo metterli in condizione mi sembra che la Lula due anni fa era sulla bocca di tutti quello si dice invece lui vorrebbe vincere anche quella scommessa ma quella scommessa è persa da mo mi spiace perché io ero uno di quelli che faceva il tifo non che Correa facesse 20 gol ma invece di minchia 6-7 gol arriva a mia 12-13 5-6 gol in più l'anno scorso di Correa magari mi avrebbero potuto fare la differenza non lo so questo dico condivisione dei video iscrizione al canale sempre Forza Inter io stasera non credo di guardarla ci aggiorniamo domani per il giorno del football ragazzi mi raccomando attivate la campanella ciao